buongiorno buongiorno sempre l'occhio pecoro raga io non so che c'ha ci siamo ci siamo un'altra bella giornata giornata aspetta a mo questa sta sempre al bagno ma che c'ha e dai dicono che non c'è nessuno al bagno ragazzi sono le prove dai ieri effettivamente ha mangiato un po pesante però tanto fare colazione e mi raccomando sempre belli carichi la mattina quella niente sempre belli carichi sempre belli pronti non dormimo eh mai chi ancora non ci crede che c'è una ragazza guarda c'hanno apparecchiato per le leonora ma non c'è è arrivata e la mia è arrivata fermi? confermo confermo non è che uno dice le cavolate dormono colazione al fiocco di neve fiocco di uova eh al top sempre sempre premute guarda che bello vai rovina tutto tu che hai preso? fiocco di neve vero? grande richiesta mamma mia alziamo un pochino che sound ci siamo ci siamo ma come sono il flauto come sono? sei un coccodrillo dillo ma avete chiesto tutti dove trovarla ma ce l'ho solo io e questo no però prometto che faremo una canzone quest'estate è pazzesca mamma mia vanno sui carichi 3 2 1 go no si boh coccodrilli vi ricordo tutto il merchandising di carletto life soprattutto questa felpa che vi arriverà con un numero speciale random quindi ce l'avrete solo ed esclusivamente voi fate swipe up perché sto sorteggiando 4 persone da salutare in una storia mia e del nonno e le manderemo anche a fanculo sicuramente quindi continuate ad acquistare www.carlettolife.com una super impresa eh Manuel cose semplici mai nostra guida per raggiungere il posto per scattare con le pelli a pelle più da pollo c'è una palla le pelle dei pollo tutti i pesci di neagale per guardare le pelle di te si le palle di pelle per vedere le palle da pollo solo tu sti posti per fare le foto eh dopo una salita un po' di calma un po' di discesa guardate che salita ricordatevi sempre che se non c'è la salita da fare non c'è nemmeno la discesa quindi forza forza dai Mariano quindi forza sempre obiettivi salita oh no figa già me le vedo lassù senza pelo però io eh mi nonno le vorrebbe col pelo ma io no pelo ecco le sto arrivare ecco chi vince è arrivato secondo anche Manuel io già ho tolto i sci ho battuto oh chiamo un gatto delle nevi ma in cima sul posto per lo shootings fashion block e io ho la patacca del sugo sulla felpa grandissimo sempre eh sempre in fashion block insegno un trucco quando fate le foto alle persone più alte fatevi sempre il piedistallo sempre anche sulla sabbia funziona soprattutto quando fate le foto al mare con le fighe ma non quanto sono alto ecco qua appena rientrato che bella camera proprio ragazzi una bellissima bellissima struttura cioè veramente bella comunque abbiamo scoperto una cosa sci alpinismo bellissimo ma le seggiovie come sono? belle le seggiovie sono fantastiche cioè abbiamo rivalutato le seggiovie oggi ma sacchete top vai lavoro per te vai taglierin il buon Marco dice taglierin guardate che spettacolo taglierin con un po' d'ovo visto che siamo a vicino a Pasqua postazione con le corna guarda me l'avete scritto in tantissime già mi ha tradito la ragazza immaginaria ragazzi immaginari più carico più carico più carico anche noi due ecco amore ma com'è com'è questo paese bellissimo vero? ah quanto ci sta bene ma non mi è innamorato raga cambia la vita è tutto più bello oh no nonno Faustino no e nonno Faustino no e nonno Faustino no ho sbagliato nonno ah scusi due roba al computer chi ancora non l'ha fatto iscrivetevi al canale youtube carletto life fate swipe up swipe 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 amore dai bisogna andare oh oh no questa sta sempre dentro sto bagno le cose sono due raga o è una cessa o proprio gli scappa forte Filiberto da chi ha ripreso? da me guarda come mangia quanto è bello Fili è buono? la pappa al pomodoro più buona del mondo Mari com'è sta pappa al pomodoro? è un pazzesco abbiamo crescido il bis per loro per loro che stai grandi intenditori di vini e anche di storia del vino è un grande bevitore Giovanni numero uno stasera ho bevuto bevo c'ha l'esperienza c'ha viziato guarda come è? perché ieri bui vediamo un colazione mattina prima che prima mattina fa un colazione siamo al champagnino come fanno in Germania si alle mani anche questa sera siamo stati benissimo oh no non fare così subito la satanata della notte stai calmo adesso ti abbraccio dormiamo insieme e poi si vedrà oh cavalla golosa sto ragazzo mi distrugge